buongiorno 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 salve ragazzi buongiorno ciao Laura attenta a quei due eh sono loro due che devono stare attenti buongiorno dottore beh non sarà mica marioana ma che scherza dottor è una nazionale non si sa mai con l'ambiente che devi frequentare oh mica balli tanto bene però eh ah so grazie